Hola, io sono Rich e questo è un video su Corpse Party dei gameplay Banda recente non ho proprio voglia di parlare, visto che non ne sono capace e... bene, spero che vi piaccia Beccare... Sì, ho fatto un video Figlio, devo giocare a questa cosa Marta, io ti ammazzo Sei morta Start, bottom Ma è che ne so, non puoi fare basti a questa cosa Questa non è in serie Lascio mostrare Capito l'uomo Nuovo gioco Dai solo, trova che sia tanto View the chat opening Spero cominci la stessa ripresa Non mi dica la stessa ripresa che mi sparo Saki is my pride and my pride She'd anything for Non ho capito un cazzo I don't see Che cazzo, vamo finere lì But I still love her With my heart Ok Volevi sapevi con cosa ami Tipo il culo Ciao da con me Sì Vabbè, ma posso muoverlo? Fantastico, andiamo alla prima volta. No, andiamo a casa. ... ... ... ... ... ... E chi è questa? Perché sono tutti ritornati qua? Ah, c'è questo. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Ok. 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 Mi sa di sì? Eh, io voglio che sia un fantasmo E in tutto quello che è sempre quella cosa più obbligo che poteva capitare Allora Questa è la prima parte È un maggiore Un'amintesa 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 Un'amplice Un'amplice Ma Sperit Un'amplice Un'amplice Grazie per la visione Sì siamo tutti qui a morire che bella finita Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione